buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 27 settembre 2024 cominciamo subito la lettura dei giornali però con una piccola prolusione per quanto riguarda il santo del giorno e lo vediamo appunto nell'almanacco eccolo qua è un santo noto molto attuale per la sua opera che fece nel diciassettesimo secolo si tratta di san vincenzo de paoli san vincenzo de paoli l'apostolo della carità una santa teresa di calcutta anteletteram potremmo definirla per definirlo per attualizzare la sua opera che ancora molto attuale perché condotta per alleviare le sofferenze dei poveri insomma è l'apostolo veramente della carità un maestro per in modo con cui una delle virtù teologali la carità appunto è stata messa in pratica ebbene san vincenzo fondò ospedali per gli ammalati aprì orfanotrofi ricoveri per i vecchi ritiri per i dementi istituì le figlie della carità e creò un gruppo di chierici che erano dedicati all'apostolato rurale a quello delle campagne primo nucleo della congregazione della missione nota come i lazzaristi ebbene morì a 84 anni il 27 settembre del 1660 san vincenzo de paoli quindi ancora presente con le sue opere con le sue congregazioni nel mondo attuale ebbene è una persona che ha lasciato il segno in europa anche per il futuro per l'avvenire ed ora passiamo alle previsioni del tempo bene possiamo dire che oggi le condizioni sono un po' altalenanti avremo schiarite ma anche pioggia forse forse pioggia sole e nubi sulle marche con locali piovaschi sulle zone subapenniniche e sui sibillini nel pomeriggio le massime le massime sono a pastosto piuttosto elevate dopo il calo delle temperature dei giorni scorsi che è arrivato per quanto riguarda la massima a 21 22 gradi ora siamo risaliti fino a 29 30 gradi mentre la minima anch'essa è salita a 21 gradi sulle coste eventi ispireranno da sud sudeste nell'interno da sud ovest il mare leggermente mosso il sole è sorto alle 6 59 e tramonterà alle 18 e 58 allora abbiamo così iniziato la nostra rassegna stampa con queste notizie il santo del giorno le previsioni del tempo ed ora apriamo veramente i giornali e vediamo sul resto del carlino l'apertura e abbiamo ancora il piccolo tommaso in prima pagina compagni e professori ricordano tommaso vola in alto anima fragile diventata angelo sono alcune parole che sono state pronunciate nella giornata di ieri dai suoi compagni di scuola che hanno voluto ricordarlo nell'ambito di una mattinata didattica c'erano le lezioni in corso ma alle 11 tutto si è fermato i ragazzi sono usciti a scuola da scuola ma restando dentro l'istituto perché poi la cerimonia si è svolta nel cortile e lì hanno dato sfogo alle loro impressioni ai loro pensieri e sono state parole veramente molto toccanti molto emozionanti parole di amicizia parole di solidarietà parole di cordoglio sono valato in cielo palloncini con il nome appunto di tommaso ma anche con il nome di un altro ragazzo del polo 3 quelle francesco che un po di età maggiore aveva qualche anno in più sui 19 20 anni e deceduto per un male incurabile frequentava il volta e beh insomma è stata veramente una prova a molto dura per questi ragazzi che si sono trovati improvvisamente nel fiore della vita nello sbocciare appunto del loro futuro di fronte alla drammatica presenza della morte e oggi oggi ci saranno i funerali di tommaso i funerali alle ore 15 nella chiesa di san cristoforo sarà presente il vescovo andrea andreozzi che celebrerà il rito funebre insieme al parroco mauro barnesi e poi i ragazzi alla fine del rito torneranno a ricordare tommaso e forse ci saranno anche i genitori che vorranno ringraziare tutti coloro che si sono accostati al loro cordoglio che hanno espresso appunto la loro testimonianza vediamo anche come il corriere adriatico riporta la notizia pensieri promesse e lacrime a scuola tommi ci lasci un grande esempio i messaggi degli amici legati a due palloncini bianchi e volati in cielo vivremo la tua gentilezza questo un po è l'espressione che è stata usata per questo bambino fragile gentile che insomma faceva veramente tanta tanta tenerezza e poi un altro articolo con un titolo significativo sono le parole che secondo quanto ci ha riferito il parroco don mauro avrebbe a pronunciato la mamma di tommaso la signora laura ha detto accetto il progetto di dio però non lo comprendo e questo ovviamente è comprensibile per quanto riguarda il dolore comunque è la fede e la forza della fede capire che dio non ci abbandona mai e sono state le parole poi che ha aggiunto don mauro ebbene tutto questo vedrà la sua conclusione nella messa di oggi pomeriggio comunque ricordo di tommi resterà per sempre in questi ragazzi passiamo alle altre notizie e vediamo che c'è un altro fatto di cronaca che ha lasciato il segno quello che si è verificato il 20 novembre del 2023 in via montefeltro tra il quartiere di fano 2 il quartiere del poderino a fano nei pressi dell'interquartieri ebbene quel giorno una un marito uccise strangolò la moglie purtroppo la moglie non stava bene era data in scandescenza il marito non aveva più retto per quanto riguarda questi episodi che si stavano ripetendo da tempo e in un impulso e in maniera inconsulta ha strangolato appunto la moglie ed è stato ed è stato rinviato a giudizio si tratta di angelo sfuggiti il pizzaiolo della pizzeria da angelo qualcuno se lo ricorderà ma era una persona mite una persona tranquilla una persona che è stata portata all'esasperazione dalla sua vicenda familiare ebbene il giudice ha conosciuto la importanza di quanto compiuto e l'ha rinviato a giudizio i legali avevano chiesto una perizia psichiatrica sostenendo che fosse incapace di intendere di volere al momento del delitto di cui è accusato ma la richiesta è stata rigettata vedremo cosa come si evolverà il processo che è stato fissato la prima udienza il 22 gennaio prossimo ed ora andiamo a bellocchi andiamo a bellocchi perché la comunità la comunità scusate non è bellocchi mi sembra che sia fenil no bellocchi bellocchi e bellocchi andiamo a bellocchi perché la comunità di bellocchi si sta rivoltando nei confronti dell'amministrazione comunale ebbene non accetta la istituzione di un nuovo impianto per quanto riguarda la telefonia mobile le antenne è un piano però che è in essere da diverso tempo tant'è che era stato formalizzato dalla precedente amministrazione e lo si sapeva che lo si doveva costruire la sua presenza viene replicata in tanti in tanti documenti che erano facilmente consultabili antenna il progetto era definito già da mesi in titola il resto del carlino l'amministrazione se il filippi si smarca dice guardate che noi non c'entriamo niente perché questa cosa l'abbiamo ereditata stabilito dallo scorso consiglio comunale non avremmo potuto fare nulla ha detto il sindaco è sul luogo indicato in ogni atto insomma già si sapeva che doveva sorgere partito a dicembre 2023 il 5 marzo è andato in conferenza dei servizi che ha approvato il sito per l'istituzione di questa nuova antenna Fano ha un piano delle antenne e in base a quello appunto ora si gioca il rapporto tra gli operatori della telefonia mobile e quelli dell'amministrazione comunale la giunta l'amministrazione parliamo anche della ferrovia Fano Urbino perché è un oggetto di interesse particolare che ha sempre così stato presente nell'attività politica di Stefano Pollegioni ebbene Pollegioni ora lancia un altro appello abete pulito la ferrovia fino a un certo punto però che cosa è accaduto è accaduto che Bellocchi è stata esclusa dalla polizia intervenite i rovi crescono indisturbati e ha messo una foto significativa di come il tratto ferroviario è stato invaso dalla vegetazione e allora bisogna la frazione di Cucurano-Bellocchi insomma deve essere posta alla stessa stregua dei tratti precedenti se là sono stati puliti non si capisce perché Cucurano Bellocchi non devono essere ugualmente ripuliti passiamo ora a Mondolfo dove vediamo che in questo comune si incrementano le strutture per i bambini le scuole materne le scuole dell'infanzia Mondolfo e Marotta a misura di bimbi si va verso i cento posti negli asili nido è stata inaugurata infatti una nuova struttura privata si tratta di nuvole bianche questo è il titolo che è stato posto che ospiterà 13 bambini si aggiunge questa struttura a piccoli passi che ne ha 26 è una struttura privata e poi a quella comunale Brontolo che dagli attuali 36 passerà a 60 vedete come 60 più 26 più 13 insomma abbiamo un numero complessivo insomma di 100 posti che insomma è abbastanza importante anche se i posti negli asili non finiscono mai nonostante il calo delle nascite insomma si vorrebbe che fossero sempre disponibili magari ne avanzasse qualcuno in più e poi parliamo dell'ospedale Bartolini l'ospedale Bartolini che deve essere trasformato in casa della comunità i lavori saranno finiti entro il gennaio del 2025 lo afferma il sindaco il sindaco di Mondolfo ebbene termineranno entro gennaio i lavori commissionati dall'aste all'ex ospedale Bartolini di Mondolfo funzionali alla trasformazione di questo ospedale perché l'ospedale è stato ormai soppresso da tempo in casa della comunità lo ha reso noto il sindaco Barbieri durante il consiglio comunale di mercoledì rispondendo ad una interpellanza del dem samuele mancini giriamo ancora la pagina passiamo ad urbino parliamo anche qui di un cantiere si tratta in questo caso di un camminamento abbiamo qui un'intervista che rilascia in proposito il sindaco Gambini mazzaferro il cantiere è quasi al termine si tratta del del camminamento che dovrebbe così un camminamento con il marciapiede che dovrebbe unire la piazza al centro del quartiere di mazzaferro così da collegare la zona al centro storico tramite il borgo mercatale il sindaco dice che è stato allargato il cantiere come previsto e d'altra parte la via sopra la scuola ospiterà una pensilina come da programma elettorale insomma sono dei lavori che sono in corso e saranno terminati al più presto giriamo ancora passiamo ad acqualagna dove una pista ciclabile che è stata realizzata da poco tempo è franata quindi non ha retto frana la pista ciclabile costruita da poco è durato poco tempo il tratto costruito da qualagna poco prima delle elezioni inevitabile polemica da biagiotti da laura biagiotti del gruppo di minoranza in consiglio comunale il gruppo si chiama prospettiva futuro che evidenzia come questi lavori non so se sono stati fatti male oppure ha piovuto tanto che insomma bene o male la pista sarebbe franata comunque comunque ora si tratta di ripristinarla e poi parliamo di a pecchio dove c'è un'iniziativa in onore di san francesco san francesco e le stimmate una mostra d'arte ad a pecchio palazzo ubaldini la ospiterà palazzo ubaldini si conferma come un contenitore culturale di grande pregio esposizioni di incisioni a tema religioso ebbene si così ricorderà il segno del dono francesco nelle incisioni tra 500 e 600 ebbene da sabato ad a pecchio a palazzo ubaldini in occasione dell'ottavo centenario delle stimmete di san francesco sarà visitabile questa mostra e dobbiamo dire che all'epoca le incisioni erano un modo molto molto efficace per divulgare certi messaggi certe situazioni rendere noto quello che era un po anche rendere noti quelli che erano i capisaldi della fede perché perché le incisioni erano facilmente replicabili e quindi potevano giungere a molte molte persone e quindi sono delle vere e proprie opere d'arte che sono state molte diffuse perché fatte in diverse copie quindi una mostra interessante per san francesco e vediamo anche come il resto del carlino apre la pagina di pesaro ebbene si gira la il coltello nella ferita per quanto riguarda opera maestra opera maestra questa istituzione che ha così realizzato tante opere luogo dell'amministrazione comunale ebbene ancora perquisizioni e sequestri finanza e polizia a casa di santini ed esposto i due personaggi che sono un po al centro delle cronache di questi giorni e vediamo in questa tabella un po il resoconto di tutte le cifre dei fondi assegnati alle due associazioni ebbene associazioni delle quali sono stati presi pc cellulari documenti si sta indagando sui rapporti economici tra i due amici e sia che sono massimiliano santini e matteo ricci massimiliano santini ex uomo di fiducia di matteo ricci e stefano esposto scusate matteo ricci era appunto l'uomo di cui santini era l'uomo di fiducia vediamo dicevo questa tabella questa tabella dove la cifra è contestata insomma è salita al quanto circa 600 mila euro non sono pochi in particolare sono 596 mila 478,3 centesimi è veramente una cifra considerevole allora passiamo ora al corriere adriatico abbiamo visto la prima pagina dedicata al piccolo tommaso abbiamo visto anche il problema delle linee pubbliche del trasporto pubblico per quanto riguarda il trasferimento delle soste che abitualmente si fanno al pincio nella zona del parcheggio del cimitero ebbene qui un'auto parcheggiata male ha causato grossi ritardi per due linee la 99 e la 25 arriva la municipale transenna agli stalli migliorata la convivenza con la festa dei fiori ma all'inizio c'è stato un po' di trambusto è bastato infatti un'automobile parcheggiata male in via tommassoni e due autobus di linea sono rimasti bloccati per circa 20 minuti ieri è accaduto questo tra le 9 25 alle 9 45 l'unico neo però di una mattinata che altrimenti non ha fatto registrare altri problemi e ieri è cominciata la festa dei fiori con una quackermesse multicolore al pincio una zona veramente bella di per se stessa ma resa ancora più bella dai fiori che sono esposte in modo particolare i ciclamini sono veramente una fantasmagoria di colori tra il rosso il rosa il cremisi l'amaranto insomma veramente tutte le tonalità che si possono immaginare per quanto riguarda questo colore forte che dà un tono diciamo così all'autunno incipiente bene passiamo anche all'antroterra vediamo valle foglia oscar green a giovani agricoltori cavalli muli e fattoria didattica ecco che è così l'aspetto rurale entra prepotentemente nella nostra vita perché sopravvive a tutti i tecnicismi possibili e immaginabili che la il progresso ci può offrire col diretti ha premiato alcune persone ortolani e pagnoni di valle foglia e fecchi di canteano si tratta del premio di col diretti giovani impresa dedicato a giovani che sanno coniugare tradizione e innovazione trattare temi di attualità come la transizione ecologica e il digitale l'etica il recupero la difesa del territorio e soprattutto dell'ambiente a mondolfo parliamo ancora dell'ospedale bartolini insomma i lavori hanno incontrato un po degli intoppi perché è stato trovato nel pavimento sono state trovate fibre di amianto e quindi bisognerà rimuovere questo materiale con tutte le dovute precauzioni fibre diamanto di amianto nella casa di comunità per la bonifica lieve slittamento dei tempi l'ha detto insomma il sindaco nicola barbieri poi vediamo che mondavio per due giorni sarà capitale del plein air festa nazionale nel weekend il programma delle visite guidate mondavio si appresta ad ospitare tante tante persone con tante iniziative per mostrare le sue bellezze le sue iniziative culturali perché insomma si può anche incrementare il turismo nel mese di settembre anche se è autunno ma la temperatura di questi giorni veramente è una temperatura estiva e si mantiene molto molto gradevole senigallia a senigallia abbiamo un problema scolastico cantiere a scuola gli studenti fuori nelle aule non ci sentiamo sicuri ebbene ieri c'è stata una protesta nella scuola perticari i ragazzi sono scesi in sciopero sono usciti dall'edificio perché si sono dichiarati esasperati dai rumori delle cantiere lavori di adeguamento sismico che si avrebbero dovuto avrebbero si sarebbero dovuti concludere prima del ritorno degli studenti sui banchi di scuola in realtà si sono prolungati anche durante le elezioni però la dirigente scolastica pur ammettendo la presenza di qualche disagio rassicura sul fatto che tutte le norme di sicurezza sono state rispettate insomma non ci dovrebbero essere pericoli per quanto riguarda la sicurezza a scuola vediamo anche come il Corriere Adriatico apre la pagina di Pesaro vediamo qua eccolo qua si parla di lavori i lavori che vengono fatti in alcuni quartieri del capoluogo Soria, Pantano e Piazza Redi avanzano i cantieri di marche multiservizi la sfida resta la viabilità ebbene sappiamo quando ci sono dei lavori alcuni disagi in modo particolare per la praticabilità di alcune vie insomma hanno il sopravvento e ora ci saranno lunghi lavori alle reti di gas, acqua che coinvolgono più quartieri e anche numerose strade la prossima settimana si interverrà su via Ponchielli però senza chiusure al traffico e già questo è un vantaggio e poi per quanto riguarda la scuola vediamo che ci sono delle querelle sui collaudi documenti con il contagocce botte a risposta tra Marchionni di Pesaro Svolta e l'assessore della Dora insomma maggioranza e opposizione dibattono questo problema e ieri c'è stato un falso allarme al Tribunale di Pesaro dove è scattato l'impianto antincendio sembrava che ci fosse un fuoco, sembrava che ci fossero le fiamme in realtà si era scaturita dai lavori in corso una nube di cratere chimico insomma che doveva spegnere l'incendio ma nessuna pioggia, nessun danno si è verificato però insomma le evidenze sono state sospese e poi vediamo come è in atto a Pesaro una radicale trasformazione per quanto riguarda i servizi in comune con altre realtà amministrative l'Unione cambierà i servizi pure ma Biancani assicura 11 vigili in più e sono questi 11 vigili che prima erano coinvolti nel programma dell'entroterra che ora potranno essere utilizzati come vigili di quartiere e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci